Si inserisce la coda, facciamo un paio di giri per bloccare e poi scendiamo fino in basso. Poi arrotoliamo, sempre nello stesso verso, fino ad arrivare sotto la nuca. Una volta arrivati sotto la nuca andiamo a chiudere, incrociando il dietro sul davanti e il dietro sul davanti. Abbiamo raccolti i capelli. Perfetto!